Musica Martedì 25 maggio, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, siamo pronti ad incominciare la nostra prima diretta del mattino per andare a sfogliare i quotidiani nazionali e locali per i primi aggiornamenti di cronaca al meteo e al traffico ma prima di tutto facciamo gli auguri al parone Giampaolo Pozzo che oggi compie 80 anni e a lui stasera dedicheremo una puntata speciale per ripercorrere la sua lunga carriera sia a livello imprenditoriale che sportivo una trasmissione davvero da non perdere con tanti aneddoti, interviste, gli auguri di chi ha conosciuto, conosce il parone, lo stima e ne esalta appunto quanto ha saputo costruire in tutti questi anni Giampaolo Pozzo si racconta in esclusiva stasera su Udinese TV alle ore 21 ancora tanti auguri da tutta la redazione di Udinese TV al parone Giampaolo Pozzo partiamo dando un'occhiata a come si sta risvegliando la nostra regione con le webcam che ci arrivano dal territorio qui siamo a forni di sopra ancora alcune nuvole, velature, residui della giornata di maltempo di ieri sul Montasio la situazione è questa invece si vedono i primi sprazzi di sole per quanto riguarda poi il friuli collinare la veduta dal castello di Ragonia è questa anche in questo caso ancora nubi basse sul territorio friulano andiamo nella bassa Cervignano cielo con ancora grosse nubi all'orizzonte mentre a grado sul litorale alcuni sprazzi di luce si vedono sulla costa friulana così come anche a Trieste dalla webcam posizionata sull'università del capoluogo Giuliano andiamo a capire dunque che tempo farà oggi nel dettaglio con i colleghi di Trebi Meteo un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo tempo instabile per la giornata di martedì sul friuli Venezia Giulia con ancora dei fenomeni soprattutto nella seconda parte del giorno in dettaglio diamo uno sguardo alla situazione prevista tra Udine e Pordenone cieli nuvolosi in mattinata con deboli fenomeni che tenderanno ad intensificarsi nella seconda parte del giorno non esclusi anche dei rovesci a carattere di temporale temperature massime intorno ai 19 e 20 gradi e diamo uno sguardo alla situazione attesa tra Gorizia e Trieste qui attesa della nuvolosità in mattinata in un contesto in prevalenza asciutto maggiori schiarite pomeridiane ma dal tardo pomeriggio i fenomeni andranno ad interessare anche Gorizia e Trieste temperature massime intorno ai 19 e 20 gradi la ventilazione sarà in prevalenza debole con mare calmo o poco mosso con questo è tutto ma per saperne di più scaricate l'app di Trebi Meteo Ora andiamo a dare un'occhiata alla situazione intemporale del traffico lungo le autostrade della nostra regione dal portale Info Viaggiando di Autovie Venete con un traffico al momento scorrevole lungo tutta la tratta dell'A4 compresa tra Venezia e Trieste ci sono consueti restringimenti all'altezza del nodo di Palmanova per la riduzione delle corsie da 3 a 2 e poi notiamo anche un altro restringimento lungo la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione del Bivio con l'A4 con la corsia a larghezza ridotta a causa di lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud tutto tranquillo su A28 e A34 Siamo pronti ora ad andare a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera che in apertura si occupa ancora delle prime indagini rispetto alla funivia precipitata in Piemonte con il video che immortala la fune che si spezza al vaglio dei PM un allarme dato nel 2015 il piccolo sopravvissuto protetto dalla braccia del papà si indaga sul cavorotto e sul sistema di sicurezza il governo verifica sugli impianti in tutta Italia questo dopo la strage del Mottarone che ha portato a 14 vittime ancora altri approfondimenti sempre dal Corriere giallo sul forchettone, i freni erano disattivati e poi Chienerini, il gestore, i rapporti col controllore le vittime senza parenti, famiglie distrutte parla la zia di Eitan, rimango qui con lui per quanto riguarda gli altri argomenti la politica nazionale, licenziamenti bloccati per chi chiede aiuti con lo stop fino a dicembre se c'è cassa integrazione e poi minacce a Saviano, due condanne le sentenze dopo i fatti che hanno interessato il giornalista e scrittore andiamo su Repubblica anche in questo caso il titolo è dedicato alla tragedia del Mottarone nel freno alla chiave della strage con le due ipotesi sul cedimento dell'impianto e del Mottarone l'usura del cavo e la disattivazione del blocco di sicurezza della cabina una manutenzione il 3 maggio ma sabato l'ultimo guasto con le corse ferme mezz'ora il bimbo sopravvissuto salvato dall'abbraccio del padre i medici non ha lesioni gravi, ce la farà la procura procede per disastro, omicidio colposo indagine tecnica e lunga andiamo avanti con altre notizie che troviamo su Repubblica migranti, Libia, così si muore a Zuvara lasciati su una spiaggia tre giorni ancora grillo i verbali inediti di Silvia perché non riuscì a reagire l'inchiesta di Tempio Pausania che vede direttamente coinvolto il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e poi ancora la politica semplificazioni dietro front sulle norme più discusse continuiamo a sfogliare le prime pagine andiamo sulla stampa di Torino che titola il video della tragedia in 14 secondi e con gli aggiornamenti abbiamo visto l'inchiesta aperta dalla magistratura di Taglio Alto anche la stampa racconta la strage infinita dei bimbi che non vogliamo vedere sulle coste della Libia passiamo al sole 24 ore le notizie economiche in apertura licenziamenti salta la proroga il mercato del lavoro in campo Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia e della Finanza dopo una giornata di forti tensioni col governo salta il rinvio ad agosto del blocco dei licenziamenti la cassa Covid ok fino a fine giugno e poi ancora recovery la governance a Draghi tensioni sul dossier appalti l'obiettivo approvare i decreti entro fine mese i nodi i subappalti e i ribassi per quanto riguarda invece il riciclo il contributo di mezzato sugli imballi di cartone questo è un altro approfondimento che trovate oggi sul sole 24 ore il fatto quotidiano invece apre con Confindustria ordine al governo obbedisce Orlando costretto a riscrivere la norma sui licenziamenti il ministro sconfessato sul rinvio a fine agosto di taglio alto fu un'invia crollata il ministero controllava ma da lontano gli errori dietro la strage dei turisti a Stresa poi altri spunti ripresi in prima sul fatto il PNRR Governanza Draghi tecnici amici di destra poi tutti da Giavazzi per le nomine c'è pure Scaroni e ancora Vannucci politologo vitalizia e regole sugli appalti che cosa rischiamo? andiamo avanti con le altre prime pagine ci spostiamo sul giornale eccoci qua i sabotatori di Draghi trame rosse tasse, diritti, licenziamenti altro che Salvini è la sinistra di Letta a destabilizzare il governo ma il premier fa diga sulle comunali italiani coalizione unita ovunque testa a testa tra i paperoni del mondo Arnaud Bezos il derby da ricchi fra lusso e di una volta e delivery di spalla abbiamo rapporto shock medici col Covid-A1 nel 2019 ora trema speranza il braccio destro dai PM a centro pagina il cavo a pezzi freni capò usura da lockdown stresa la tragedia della funivia proprio su questo argomento andiamo anche a vedere l'approfondimento nel servizio curato da Lanza sulle ultime novità rispetto al caso primo un sibilo poi un boato pazzesco e un altro botto in pochi secondi quella che doveva essere la domenica della ripartenza si è trasformata in tragedia la funivia del Mottarone che dal versante piemontese del lago Maggiore sale fino a 1491 metri del monte che le dà il nome è precipitata al suolo e in un attimo le speranze e i sorrisi delle 15 persone all'interno della cabina sono svanite 13 persone sono morte sul colpo tra cui un bambino di 2 anni mentre un altro di 9 è morto all'ospedale la zona infantile Regina Margherita di Torino dove è ricoverato in prognosi riservata all'unico superstite un piccolo di 5 anni pensavamo all'estate e alla zona bianca siamo distrutti dice il governatore Alberto Cirio sull'incidente la procura di Verbania ha aperto un'inchiesta e il ministero dell'infrastruttura ha istituito una commissione ispettiva l'area è stata posta sotto sequestro tutto dovrà essere oggetto di verifica spiega la procura di Verbania che ipotizza i reati di omicidio plurimo colposo lesioni colpose e disastro colposo l'incidente a pochi metri dall'arrivo in corrispondenza dell'ultimo pilone secondo la procura il sistema frenante di sicurezza della funivia del Mottarone non avrebbe funzionato la tragedia ha colpito 5 famiglie 3 residenti in Lombardia una in Emilia Romagna e una in Calabria ai motivi penseremo dopo quello di adesso è il momento del dolore ha detto la sindaca di Stresa Marcella Severino che ha raggiunto la cima del Mottarone subito dopo l'allarme proclamato il lutto cittadino a Stresa dove si è recato anche il ministro dell'infrastruttura dei giovannini continuiamo a sfogliare le prime pagine ci spostiamo su Libero solita Italia non si sa di chi è la funivia lo scaricabarile sulla strage di Stresa l'impianto ancora della regione manca un timbro c'è speranza per il piccolo Eitan salvato dall'abbraccio del Papa Morto vergogna i francesi esultano per le vittime ancora centropagina abbiamo l'annunziata che denuncia la pressione di Conte racconterà tre anni di mobbing e poi la foto che scuote però accusa le ONG migranti illusi dai fan dell'accoglienza la verità diretta da Maurizio Belpietro fuori la verità sulle spese di Arcuri tra dispositivi farlocchi e banche a rotelle da rottamare stavolta una commissione parlamentare di inchiesta potrebbe essere la chiave giusta per fare chiarezza l'ex commissario gode di uno scudo verso i giudici contabili ma gli italiani hanno diritto di sapere intanto i PM sentono il capo di gabinetto di speranza è arrivato il momento di togliere le mascherine all'aperto lo dicono persino i virologi e poi ancora licenziamenti si riscrive la norma Orlando il blocco verrà riformulato mitigando gli effetti negativi sulle imprese della fuga in avanti del ministro Dem il quale avrebbe voluto estendere lo stop fino a fine anno Braghi media tra i partiti di maggioranza e anche la verità poi di taglio basso mette in luce il giallo sulla proprietà della funivia della strage della regione del comune di Stresa e PM indagano sull'incidente impossibile il foglio tra gli editoriali che propone in prima pagina tribunari seminari sinodo i tre punti del Papa per rifare la chiesa con un rimprovero ai vescovi ho notato qualche amnesia e poi ancora le aggressioni low cost l'Europa reagisce con misure dure contro la Bielorussia o le azioni ostile aumenteranno incerte le condizioni di Roman Protasevich perché Minsk teme quest'asso dalla guerra tech due populismi sui migranti sull'immigrazione europeisti e sovranisti hanno una linea comune colpa dell'Europa è davvero così superare i dualismi farlocchi tra aprire tutto e fermare tutto si può quattro svolte per Draghi andiamo sulla prima pagina del manifesto che apre con la fotonotizia ti licenzio quando voglio le pressioni di Confindustria hanno la meglio a quattro giorni dal Consiglio dei Ministri Draghi decide di cancellare il compromesso voluto dal Ministro Orlando salta il blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto le imprese avranno mani libere dal primo luglio centro pagina stresa groviglio di responsabilità quel pasticcio tra pubblico e privato alla gara per l'ammodernamento un solo partecipante di taglio basso alcuni spunti 20 miglia aggredito recluso 23enne suicida al CPR comunali Salvini meloni meloni lite sui candidati e poi reportage gasa sventrata si chiede il perché vediamo i temi legati al nordest con l'apertura del gazzettino licenziamenti intese tradite l'intervista a fondo di Bonomi della Confindustria contro il blocco così non si fanno le riforme poi interviene Draghi con un compromesso lo stop rimane ma vengono fissati dei limiti a centro pagina fornitura a rilento in Veneto 34 mila vaccini al giorno la regione viaggia un terzo del potenziale Zai adesso tocca ai giovani addetti al turismo e poi il caso dell'imprenditore Veneto sequestrato in Sudan la cella di Marco il papà dice temo per la sua vita anche il gazzettino ricorda l'appuntamento di stasera con Gian Paolo Pozzo si racconta alle ore 21 l'intervista su Udinese TV all'interno delle pagine del gazzettino andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto in prima pagina e soprattutto quelli legati al Friuli l'apertura del dorso friulano ci racconta della linea della persuasione contro i Novax che sta venendo portata avanti dalla regione Friuli Venezia Giulia una nuova chiamata per i sanitari non immunizzati valuteremo la possibilità di aprire agende dedicate ferie sindacati preoccupati Cividale il punto di primo intervento slitta settembre avviso interno per il pronto soccorso di Lignano a centro pagina Pozzo 80 anni tra stadio Tifo e Var mentre i bianconeri chiudono la stagione si festeggia il patron il tema migranti boom di profughi l'allarme di Roberti in provincia rintracciati altri stranieri la regione chiede un vertice con il ministero tornando invece alla Pentecoste appena trascorsa controllate 88 persone a Lignano poche denunce rispetto agli anni scorsi di taglio basso il premio Friuli Storia sui tre finalisti parola alla giuria dei lettori andando all'interno delle pagine del gazzettino vediamo dunque la situazione per quanto riguarda i Novax le agende dedicate per convincere i sanitari il nuovo conteggio parla di 1326 non immunizzati il direttore caporale si stanno vaccinando sulle ferie la CISL uniformare le regole primo intervento a Cividale rinviato a settembre e noi ci siamo proprio occupati della riorganizzazione della sanità in Friuli nella nostra intervista proprio al direttore generale della SUFC Denis Caporale allora andiamo ad ascoltare i passaggi più salienti di questa intervista ci stiamo riorganizzando nel senso che l'apertura anche noi per noi l'apertura significa attività e quindi la nostra attività che naturalmente deve tenere in considerazione anche attività già programmate attività di recupero le sospese in precedenza diciamo che il tutto deve in qualche maniera combinarsi anche con quello che è un periodo estivo solitamente il periodo estivo per noi prevede già una riduzione delle attività e quindi per far esufruire i nostri lavoratori i nostri dipendenti che sono parte fondamentale della nostra attività è importantissima alcune attività naturalmente non potranno essere recuperate al 100% quindi avranno dei tempi un po' più lunghi Oggi avete avuto un incontro con i sindacati proprio per affrontare la questione delle ferie in quanto si tratta di conciliare appunto il diritto dei lavoratori alle ferie con il fatto che bisogna ripartire ovviamente immagino che sarà stata una di una serie di riunioni che non abbiate insomma deciso niente di definitivo oggi ancora Devo dire che è stato un incontro interlocutore interessantissimo nel senso costruttivo sia per noi che penso anche per le organizzazioni sindacali abbiamo trattato vari temi varie problematiche sicuramente quella delle ferie è un problema che come dicevo deve essere considerato assieme alla riapertura però cercheremo di assicurare a tutti quanti i lavoratori il periodo di ferie di cui hanno diritto Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale come siamo? Come sta procedendo? La campagna vaccinale sta procedendo a ritmi elevati sicuramente condizionata sempre dal numero di dosi che questa azienda così come la regione ha a disposizione arriviamo sempre al giorno prima della consegna con un numero limitatissimo di dosi quindi i nostri versanti sono quelli degli hub vaccinali che abbiamo naturalmente aperto già da tempo assieme a questi hub vaccinali in questo momento sono entrati nell'attività di vaccinazione anche i medici in generale che stanno facendo un importante lavoro quindi siamo arrivati a una percentuale di popolazione siamo arrivati a un terza popolazione vaccinata con a meno una dose al 33% e quindi diciamo che stiamo procedendo con ritmi elevati quindi questa distribuzione sul territorio degli hub vaccinali sta funzionando si sta rivelando una buona strategia sì anche i dati rispetto ai singoli distretti ci presentano una sorta di omogeneità rispetto alle persone vaccinate diciamo che ci sono uno massimo due punti di differenza tra la popolazione di popolazione vaccinata tra i singoli distretti questo è importante perché significa che anche le attività vaccinali fatti all'interno non solamente degli hub ma all'interno anche di questi centri che noi consideriamo itineranti ha dato una risposta al territorio e ha dato la possibilità anche ai singoli di vaccinarsi vicino a casa queste dunque le parole di Dennis Caporale direttore dell'azienda sanitaria Friuli Centrale sempre sul fronte sanitario dalle pagine del Gazzettino andiamo ad approfondire la chiusura della medicina d'urgenza covid a picco i ricoveri questo per il miglioramento della situazione pandemica la necessità di degenza ridotta a una o due al giorno i sanitari restano allerta per un futuro non prevedibile il 27 maggio ricorre la giornata dedicata agli operatori dell'emergenza per quanto riguarda poi i contagi crollano si svuotano i reparti mentre sul fronte infermieri anche l'Emilia li cerca in Friuli la Coppa ha chiamato la sua FC sperando di intercettare i sanitari andiamo avanti con gli altri temi la situazione migranti clandestini il vertice al Ministero richiesto dalla Regione una settantina individuati a Udine l'altra notte altri 34 a Trieste Roberti sollecita al più presto intervento l'assessore non sono più rinviabili i provvedimenti per arginare il fenomeno arrivi in crescita del 20% per quanto riguarda poi invece il weekend di Pentecost una ventina le denunce scattate a Lignano grazie anche ai posti di blocco e all'azione congiunta della Polizia Italiana supportata da alcuni colleghi bilingue arrivati dalla provincia di Bolzano parliamo di cucina con la scuola di alta formazione enogastronomica che è stata presentata ieri alla città fiera inaugurata l'Accademia del Gusto Bini è il simbolo della ripartenza e poi sono stati premiati in Unione Europea gli inventori in erba del Malignani grazie al dispositivo che avverte se la pianta ha bisogno di acqua questo per quanto riguarda il gazzettino la cronaca che ci porta invece nella destra tagliamento ustionato con il caffè bimbo grave l'incidente domestico in un'abitazione a Valle Noncello nella tarda mattinata di ieri vittima a un piccolo di due anni è stato ritrasportato a Udine e si sta valutando il trasferimento in un centro specializzato dalle pagine del gazzettino ora ci spostiamo su quelle del piccolo nell'edizione di Trieste l'apertura del quotidiano eccoci qua in arrivo il ritocco agli stipendi di sindaci e giunte con gli aumenti delle indennità mensili che variranno dai 350 ai 500 euro lordi di piazza io vivo del mio ma oggi le cifre sono offensive queste le parole del sindaco di Trieste centro pagina invece così ho scoperto le mule nel febbraio del 1955 Giuseppe Longo firma un pezzo vintage sulla storia di Trieste per quanto riguarda poi le altre notizie richiamate dal piccolo la replica di Riccardi è grave cercare di condizionare le future nomine questo sul tema della della salute mentale lo spoil system che mette a rischio il modello Trieste dalla piccola edizione del capoluogo regionale andiamo all'edizione di Gorizia che muta nella sua fotonotizia dedicata alla città di Gorizia perché racconta la visita del sindaco Ziberna e del suo collega di Nova Gorizia Miklavitz ricevuti ieri dal presidente della Repubblica Mattarella due città un unico laboratorio europeo hanno incontrato il Quirinale il capo dello Stato in autunno arriverà proprio a Gorizia per visitare le due città l'appoggio di Mattarella al lavoro svolto per il riconoscimento della zona economica queste anche alcune delle immagini poi c'è stato l'incontro anche con il ministro degli affari regionali Gelmini per correre la strada verso la sburocratizzazione dal piccolo al messaggero veneto andiamo a vedere l'apertura del quotidiano nell'edizione di Udine si riprende in prima pagina la situazione delle elezioni per l'estate aderisce soltanto metà delle scuole già assegnati in Friuli Venezia Giulia i finanziamenti per 2 milioni e 800 mila euro la CGL Scettica la CISL idea buona ma famiglie poco interessate a centro pagina poi il racconto della riapertura dopo 7 mesi delle palestre e poi per quanto riguarda le altre notizie c'è la cronaca con un camionista trovato morto in un parcheggio ieri sera a Dosoppo c'è chi già realizza il vino senza alcol produttori divisi dopo le novità arrivate dall'Unione Europea e poi un furto con scippo accaduto ieri in stazione ferroviaria Udine colpita una donna vediamo anche l'apertura della pagina dedicata a Udine città dove ritroviamo i temi sanitari come abbiamo ascoltato prima il direttore caporale entro la settimana al piano ferie da ridiscutere gli orari di lavoro questo il focus sanitario andiamo a recuperare anche l'edizione di Pordenone del messaggero Veneto con l'apertura dedicata alla città del noncello eccoci qua con il tema dei recovery covid con 1859 battaglie combattute fino all'ultima dimissione diffusi i dati degli otto mesi alla Santa Maria degli Angeli e dai picchi di oltre 200 pazienti contemporaneamente ora siamo scesi a zero riabilitazione a distanza per le persone invece con autismo questa è un'altra delle notizie ripresa dal messaggero di Pordenone diamo un'occhiata anche alle aperture della Corriere del Veneto nelle edizioni di Treviso e Belluno con anche in questo caso il tema delle funivie rapportato a livello locale dopo la tragedia del Mottarone c'è una ricognizione sugli impianti veneti dei controlli dosi raddoppiate Zaia l'obiettivo è vaccinare i giovani maxi carico in arrivo con 454 mila sieri insulti sul web a Rosato Renzi cacciate Tonnella è lui che chiede scusa per quanto riguarda invece poi l'edizione di Venezia e Mestre le notizie sono le stesse ora siamo pronti invece ad aprire la pagina sportiva con le prime nazionali dei quotidiani dove si inizia già a pianificare al termine del campionato di Serie A le novità soprattutto sulle panchine delle squadre la gazzetta dello sport apre così scaricato l'erede di Gigio Milan ha preso Mayan che è il portiere dell'Illa campione di Francia oggi farà le visite accordo a triennale è stato dato il ben servito a Donna Rumma poi le altre notizie Juve Allegri chi si rivede Pillo verso l'addio il Real Tentenna Max è di nuovo favorito su Zidane Conte e l'Inter niente vertice partita aperta con il club svolta il Napoli arriva con Seissau sulla Lazio invece si fa il nome di Gattuso il ciclismo lo andremo a vedere tra poco l'impresa di Bernal il giro in mano il colombiano ha conquistato la tappa da Sacilia a Cortina staccando tutti negli ultimi 7 km ha vinto in rosa alla Pantani devo dare spettacolo secondo in classifica generale l'italiano Caruso il Corriere della Sport apre con la svolta con Seissau la nuova geografia della Serie A comincia a delinearsi dopo i verdetti il Napoli apre la giostra delle panchine Biennale al Portoghese Gattuso verso la Lazio Mihailovic a Roma pausa di riflessione CR7 spaventa la Juve grazie per il viaggio vinto tutto anche qui per quanto riguarda poi l'Inter Lautaro Bastoni uno è di troppo la decisione di cedere una big comunicata al tecnico dai dirigenti ma salta l'incontro con il presidente e poi ancora l'Italia di Mancini che fa la conta la nazionale in Sardegna in vista degli europei gli azzurri in ritiro con le famiglie il CT adesso deve valutare le condizioni di Veratti Sensi e Pellegrini la rinuncia poi di Lazzari andiamo a vedere l'apertura del tutto sport Inter Juve alla Max guardate chi c'è alla partita del cuore su canale 5 direttore 21 il futuro di Conte Pillo resta molto incerto Zang deve gestire il mal di pancia di Antonio Tronchetti Provera e dice sarebbe un delitto perderlo Agnelli perplesso su Andrea Allegri è l'alternativa più solida sia per i nerazzurri sia per i bianconeri di taglio alto a storie Davide nel cuore per sempre inaugurato a Firenze il Murales di 240 metri quadrati dedicato al capitano presente anche Pioli esclusivo Superlega un'idea disgustosa parla Magda Pozzo numero uno del marketing dell'Udinese le grandi tengano i conti in regola la Dacia Arena sarà green e poi ancora il lutto addio Mosley rivoluzionale a Formula 1 una vita dedicata alle corse fu il presidente della Federazione Internazionale Automobilistica che gestì il futuro dopo la morte di Senna sul Torino bonus champions per Juric Cairo rilancia per convincere il croato in seguito anche dal Cagliari Milan poi l'ICI rinforzo per Pioli Napoli in panchina arriva con Seisau dell'Aurentis volta pagina e dopo l'addio a Gattuso il successore sarebbe l'allenatore del Porto questo per quanto riguarda la prima pagina del tutto sport ora entriamo all'interno della gazzetta dello sport per celebrare gli 80 anni del paronna Gian Paolo Pozzo vi abbiamo ricordato in apertura oggi festeggia e naturalmente anche noi dedicheremo stasera alle ore 21 un ampio programma di approfondimento con diverse esclusive l'intervista lo stesso Pozzo gli auguri di chi l'ha conosciuto di chi lo conosce lo stima lo apprezza e poi ripercorreremo la sua carriera tra lo sguardo imprenditoriale e quello sportivo sul compleanno della Paron la gazzetta dedica un'ampia pagina a firma di Francesco Veluzzi Pozzo 80 il Paron sempre all'avanguardia e ora rivolgo Udine in Europa dal 1995 tiene il club in Serie A è andato tre volte in Champions League ma vuole ancora sognare e dopo di Natale il suo ultimo gioiello è De Paul le idee che hanno rivoluzionato in parte del mondo del calcio già dieci anni fa ha introdotto la rivoluzione tecnologica suggerendo l'utilizzo del VAR e poi la squadra in 35 anni tanti talenti conti a posto intuizioni e vendite record c'è anche il profilo nato il 25 maggio del 1941 imprenditore nella produzione di utensili per lavorare il legno con la Freude e poi il passaggio dell'azienda La Bosch dal 86 e proprietario dell'Udinese che tiene in appunto dal 95 la società che rilevò dalle difficoltà e la portò alla ribalta europea abbiamo anche alcuni scatti per quanto riguarda proprio il Paron i momenti chiave con Francesco Guidolin con Antonio Di Natale e anche con Elton John super tifoso del Watford la formazione inglese ritornata in premier gestita proprio dalla famiglia Pozzo l'intervista completa dunque la trovata sulla Gazzetta dello Sport a firma di Francesco Veluzzi e anche il Corriere della Sera oggi celebra il Paron dell'Udinese con una lunga intervista di Mario sconcerti io mi occupo dei conti mio figlio cerca giocatori così siamo arrivati a 26 stagioni in Serie A il calcio è il nostro hobby di famiglia andiamo a leggere alcuni passaggi anche dell'intervista dunque che troverete oggi sul Corriere della Sera questa è la storia di una differenza quella di Gian Paolo Pozzo l'uomo che da 36 anni possiede e gestisce l'Udinese nessuno in Serie A ha un passato più lungo nel mestiere di proprietario Pozzo è anche l'uomo che per molti ha inventato il calcio moderno infine è il signore che oggi compie 80 anni lei avrebbe portato Zico a Udine chiede sconcerti a Pozzo no penso di fare il calcio in modo diverso ma mi c'è piacere vederlo in città avevamo voglia di essere guardati ci sentivamo un po' spersi nel mondo eravamo riemersi dopo 20 anni di Serie C poi Sanson se ne andò per colpa di un finto mal di cuore tutto passò alla Zanussi la seconda realtà industriale italiana dopo la Fiat Zico era vecchio altrimenti non ce l'avrebbero dato a quel prezzo ma fu un grande colpo per una città che aveva bisogno di allegria si cominciò a parlare di Udinese dovunque mettemmo il primo maxischermo rimase a lungo il più grande del mondo erano record che ci inorgoglivano poi arrivò il tempo di pagare il lusso i dirigenti fecero un po' di traffici per rimanere in A e finì che ci dettero nove punti di penalizzazione quando le vittorie valevano due punti le partite erano solo 30 impossibile salvarsi e proprio lì arriva Pozzo ricorda sconcerti sì dovevamo fare una cordata c'erano dentro Zopass Zamparini e altri mi chiesero di dare una mano e accettai volentieri alla fine erano rimasti solo i miei soldi gli altri tutti scomparsi sono rimasto per salvare l'investimento mi seccava a buttare via quei soldi e divenni presidente era il 1986 un'intervista tutta da leggere dunque quella che troverete oggi sul Corriere della Sera dedicata proprio a Paron Giampaolo Pozzo per i suoi 80 anni per quanto riguarda poi anche le altre notizie sportive dedicate all'Udinese ci spostiamo sulle pagine del Gazzettino anche in questo caso si racconta gli 80 anni di Giampaolo Pozzo con 27 campionati in Serie A eccoci qua oggi il proprietario del club Bianconero festeggia un compleanno speciale tutto cominciò nel 1986 in bilancio 11 partecipazioni alle coppe europee tanti giocatori scoperti e lanciati uno stadio gioiello il pezzo a firma di Guido Gomirato con gli auguri al Paron e la storia che viene ripercorsa e che faremo ripercorrere anche stasera con immagini esclusive interviste inedite il Paron promette voglio far divertire i tifosi faremo tutto il possibile per migliorarci però io non sono una persona che si indebita pur di vincere e rispetto sempre gli impegni presi queste le parole per quanto riguarda poi anche un passaggio sui primi anni dell'avventura nella gestione sportiva dell'udinese dal CIN svela tutto partì nel salone del parrucchiere anche questo un passaggio curioso un racconto di come partirono le trattative proprio per rilevare la formazione bianconera anche in questo caso trovate gli approfondimenti sul gazzettino ma vi ricordiamo anche il nostro magazine con l'edizione dedicata proprio a paronna Giampaolo Pozzo in edicola proprio da oggi in tutte le edicole del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale tutto da sfogliare un'edizione speciale che ripercorre la straordinaria carriera del paronna Giampaolo Pozzo lo trovate anche appunto con la richiesta online sul sito della formazione bianconera continuiamo con i quotidiani dalle pagine del gazzettino andiamo a sfogliare anche il quadro rispetto al futuro della formazione bianconera perché è una settimana decisiva per capire il futuro di mister Gotti una spina staccata troppo presto bisognava dare di più l'analisi di Fulvio Collovati che trovate oggi sul gazzettino per quanto riguarda l'approfondimento su un bilancio di fine stagione la società bianconera ha dirigenti in grado di fare le giuste analisi e di prendere provvedimenti per evitare di avere gli stessi problemi in futuro per quanto riguarda invece Rodrigo De Paul ha festeggiato ieri anche lui il compleanno la festa per il rompete le righe il capitano ha offerto l'asado e non solo per il suo compleanno ai compagni di squadra per quanto riguarda poi gli auguri dei tifosi al Parona Pozzo colui Viviamo Calcio di Serie A ci sono diverse testimonianze da parte degli Ultras dei gruppi organizzati del Tifo dell'Associazione Udinese Club con naturalmente tante attestazioni di ringraziamento per quanto fatto in tutti questi anni alla guida della società dalle pagine sportive del Gazzettino andiamo a dare un'occhiata anche al Pordenone con i neroverdi secondi con i giovani durante la stagione cadetta la formazione neroverde ha registrato una media gara di 25,4 anni solo l'Empoli ha fatto meglio grazie alla mutualità legata alla legge Melandri schierando i ragazzi arrivano i contributi economici nel frattempo è arrivata anche la convocazione nella nazionale under 21 per Vogliacco uno dei migliori talenti della squadra di Lovisa sul fronte dilettanti invece al Fontana Fredda la punta di un iceberg con la situazione della società che preoccupa anche alla luce del futuro dei campionati dilettantistici regionali per quanto riguarda proprio anche le idee di fusione riduzione delle squadre con la stagione sportiva che dovrebbe ripartire a settembre per parlare di sport locale torniamo sulle pagine del messaggero perché c'è anche il basket protagonista stasera torna in campo l'Apu Old Wild West con la gara 2 del turno di playoff contro Trapani Old Wild West che vuole fare il bis dopo la vittoria di domenica palla 2 alle ore 18 al Carnera e anche questa gara ve la proporremo live su Dinese TV proprio a partire dalle ore 18 la situazione in panchina indisponibile a Mato c'è l'esordio di Mian a coach Bonnicioli difendiamo come domenica e non diamo nulla per scontato Old Wild West rispetto a gara 1 deve migliorare le percentuali di tiro per quanto riguarda la A1 e la pool Scudetto Milano ieri è andata sul 2-0 contro la Reier Venezia e venerdì l'impegno in Eurolega per quanto riguarda invece il ciclismo dicevamo ieri la tappa Sacile Cortina D'Ampezzo una tappa rivoluzionata al mattino una partenza ritardata per quanto riguarda la città del Livenza a causa del maltempo si è scattati alle 11.30 con il percorso che è stato tagliato per il problema del maltempo sul Pordoi e sul Fedaia il passo Giau che è diventato Cimacoppi e naturalmente è Galbernal che è andato a conquistare la vittoria finale imponendosi sui diretti avversari dalle pagine del messaggero vediamo appunto il racconto esulta come Pantani Bernal si prende il tappone dimezzato va via sul Giau vince a Cortina Super Caruso Iets K.O il padrone dice Marmolade poi le avrei scalati volentieri per quanto riguarda poi Nibali che aveva tentato una delle prime fughe e ci riproverò ancora il fuoriclasse da un calcio alle critiche in corsa e poi il bilancio delle tre tappe del Friuli Venezia Giulia del Giro d'Italia Cainero tra soddisfazione e progetti andiamo ad ascoltare proprio l'intervista che chiude il passaggio dello Zoncolan di Grado e Gorizia appunto di ieri a Sacile molto positivo lo dicono gli altri non devo dirlo io recepisco le indicazioni le sensazioni di chi ha vissuto queste tre giorni parlo di spettatori di popolazione di istituzioni e di addetti ai lavori diciamo che era una sapevo che era una tre giorni molto impegnativa che avrebbe chiesto la collaborazione di tanta gente di tante persone così è stato l'abbiamo portato alla fine io ne sono molto molto contento abbiamo unito il mare la montagna la cittadina bellissima come Sacile dove mi dispiace piova però c'è tanta gente è stato uno Zoncolan più difficile del solito quello di quest'anno sì il più difficile di tutti i miei 18 anni però con tutta onestà devo dire che il risultato la partecipazione mi ha ripagato in modo notevole e ha ripagato il lavoro dei volontari delle persone che mi sono state vicine archiviato lo Zoncolan archiviamo Sacile però il grande ciclismo femminile tornerà in Friuli Venezia Giulia a breve sì noi adesso due tre giorni per fare riprendere un po' di lavoro professionale poi ci ributtiamo nell'organizzazione del Giro d'Italia femminile che avrà ben tre tappe venerdì sabato e domenica 9, 10, 11 di luglio prossimo venturo e sarà una cosa sicuramente molto interessante molto bella poi è una gara l'unica gara al mondo di questo prestigio cosa c'è nella testa di Enzo Cainero per il prossimo anno? il prossimo anno dovrebbe essere già fatto adesso pensiamo al 2023 più avanti però bisogna arrivarci fino lì perché gli anni corrono come le ruote delle biciclette non le puoi fermare non hanno i freni oggi per i corridori giornata di riposo dopo le fatiche dolomitiche domani si riprenderà con un'altra tappa di montagna la Canazei Sega di Ala in Trentino noi per quanto ci riguarda ci fermiamo qui vi ricordiamo ancora una volta gli appuntamenti di giornata l'informazione su Linese TV tornerà live alle 10 alle 12 poi alle 15 pomeriggio calcio alle 16 nuovamente spazio l'informazione dalle 17.30 con il pre-partita la sfida di gara 2 tra Udine e Trapani per il basket all'interno avremo un flash alle 18.45 poi alle 21 vi ricordiamo ancora una volta davvero una puntata da non perdere perché Giampolo Pozzo si racconta i suoi 80 anni tra successi imprenditoriali e sportivi dalle ore 21 qui su Udinese TV grazie a tutti per averci seguito e ancora una buona giornata grazie a tutti